A Milano c'è, ve lo giuro, una tosteria, e già col termine tosteria siamo a dei livelli altissimi, a Milano c'è una tosteria dove fanno solo toast con l'avocado. Un avocado tosteria, credo si chiami, non lo so. C'è il basic avocado, c'è l'epic avocado, c'è il supreme avocado. Quando tu, nella civiltà, arrivi a un punto in cui mangi un supreme avocado, è il punto di non ritorno, ragazzi, è troppo tardi. Per l'avocado è troppo tardi, ma per il politicamente corretto forse siamo in tempo. Forse siamo in tempo. In questi cinque minuti ho usato termini che potrebbero essere offensivi verso neri, lupi, minoranze etniche e sessuali. Secondo voi chi si offenderà di più? Secondo me quelli della tosteria degli avocado. Facilissimo. Se devo scommettere su qualcuno, scommetto su di loro.